Un saluto a tutti cari abbonati e benvenuti ad una nuova lezione sulle strutture pedonali. Già nella prima stavamo studiando il pedone isolato, che è un argomento importantissimo che dobbiamo approfondire bene per capirlo fino in fondo. La prima parte di questa seconda lezione sarà visibile come anteprima per tutti i visitatori del canale, quindi mi raccomando, se queste lezioni vi piacciono, fate un pensierino all'abbonamento, perché con soli 2,99 euro al mese, tutti i mesi avrete delle nuove lezioni più tutte quelle dei mesi precedenti che rimangano sempre disponibili per tutti gli abbonati. Ma ritorniamo al pedone isolato, facciamo un piccolo riassunto della prima lezione. Quali sono i piani principali del bianco, cioè del colore possessore del pedone isolato? Noi abbiamo indicato quattro piani principali, come primo la spinta di 4 di 5 che apre la posizione per sfruttare un vantaggio di sviluppo del bianco. Abbiamo infatti studiato la partita del fortissimo finalista ed anche autore di libri, Jesus della Villa. Ora ritorniamo a quella partita per rivedere la posizione chiave. Eccoci arrivati al momento critico della partita tra Jesus della Villa e Sion Castro, giocata nel 1995 a Leon. Vedete come il bianco, cioè della Villa, il possessore del pedone isolato, stia controllando con tantissimi pezzi e preparando questa spinta di 5, al posto che bloccare il pedone Sion Castro addirittura rimuove un controllore, cioè questa torre, della casa in D5. Guardate che succede, arriva torre in E8, il bianco quindi può spingere indisturbato in D5, arriva D5 e per D5 il cavallo cattura, e questo cavallo va rimosso assolutamente, perché guardate ci sono degli attacchi di scoperta terribili sulla donna del nero, scusate, sulla donna del nero, quindi cavallo per cavallo l'alfiere ricattura. Adesso c'è una scoperta ancora peggiore, perché il sacrificio dell'alfiere in F7 con scacco vince direttamente la donna, la donna va spostata, il nero la sposta in B8, forse in C7 sarebbe stato un po' meglio per dare un minimo di protezione al lato di Re. Guardate un po' il bianco come è coordinato, arriva alfiere in H6, inizia un fortissimo attacco, ci sarà il tematico sacrificio di pezzo su F7 per un attacco imparabile del bianco. Vedete che anche il bianco ha la donna sotto attacco a raggi X, ma non c'è nessuna buona scoperta, guardate che succede se il nero gioca alfiere in F8 che attacca l'alfiere, attacca la donna di scoperta, e qui basta ricordarsi che quando il bianco è coordinato fortissimo il tematico sacrificio o del cavallo dell'alfiere in F7, arriva alfiere cattura in F7 con scacco, qui il Re deve ricatturare, pensate c'è già il matto forzato. Cavallo in G5 con scacco, il Re si sposta, donna in C4 con scacco, eccetera eccetera eccetera. Ora ritorniamo sulla parte teorica del pedone isolato. Siamo appena ritornati sul diagramma iniziale però con frecce differenti perché abbiamo detto sono 4 i piani, il primo lo abbiamo appena ricordato che era la spinta di 5 per aprire la partita, se naturalmente il bianco è ben sviluppato e ben coordinato per poi attaccare, il secondo piano è l'attacco diretto al Re nero che inizia con l'attacco del pedone E6 e il sacrificio del cavallo, il possibile sacrificio del cavallo su F7. Per capire questo piano abbiamo studiato insieme la partita di Lerner, quindi ritorniamo velocemente alla posizione chiave di quella partita per ricordarci velocemente questo secondo piano. Eccoci arrivati al momento chiave della partita perché stavolta il nero, guardate, è stato ben più cauto, è riuscito a bloccare il pedone isolato giocando cavallo in D5, ma in questa posizione alla mossa 15 del bianco ancora da giocare, io ho 5 sole partite in database con questa posizione in tutte e 5, il bianco continua con la spinta F5, infatti arriva F5, 4 vittorie per il bianco su 5 ed un pareggio, questo è un piano particolarmente efficace per il bianco, il possessore del pedone isolato, soprattutto quando la torre è ancora sulla colonna F, guardate che succede, il nero gioca donna in D6, arriva l'alfiere in G5 perché ricordiamoci, quando il pedone avanza apre sempre nuove linee o nuove case per il miglioramento dei nostri pezzi, il cavallo cattura il cavallo in C3, quindi il pedone ricatturando cambia la struttura pedonale, ma adesso il bianco è concentrato sull'attacco, arriva cavallo in E4, che è un errore, ma questa è già, pensate, una posizione molto difficile da difendere, quindi alfiere cattura in E7, la donna ricattura, ci possiamo fermare qui, guardate, tutto converge su questi due elementi, elementi E6 ed F7, poi con la donna che entra in gioco, G4, H4, attacco fortissimo. Ritorniamo al diagramma iniziale, eccoci arrivati, stesso diagramma, nuove frecce, perché ci sono altri due piani tipici che dobbiamo imparare, il terzo piano è l'attacco sul lato di re, con la tipica manovra di torre, torre in E3, poi con la torre che si sposta in G3 oppure in H3, e se è possibile anche la spinta, il portare in attacco anche il pedone sulla colonna H. Quarto ed ultimo piano invece l'attacco sul lato di donna, sfruttando la colonna C, e sfruttando i cavalli sui due avamposti creati dal pedone isolato, C5 ed E5. Passiamo adesso ad analizzare due partite per vedere questi due nuovi piani in azione. Iniziamo con la prima partita, con il bianco, il grande palbenco, grande maestro ungherese, poi vissuto negli Stati Uniti, e grande compositore di studi sui finali, con i pezzi neri, il meno conosciuto Philip. Partita giocata a Wiccan Z, che sarebbe il Tata Steel dei giorni nostri, nel 1970. Partiamo. Palbenco, apre la partita con D4, Philip risponde con D5, C4 e gambetto di donna, D per C4, gambetto di donna accettato, ora noi non ci concentreremo troppo su questa fase di apertura, perché naturalmente in questa lezione ci interessa il medio gioco, cavallo in F3, una delle linee principali, cavallo in F6 utilissima, perché impedisce al bianco la spinta che conquisterebbe il centro, quindi questa spinta è 4, arriva infatti E3. Pedone sotto attacco, abbiamo detto in qualche occasione che, sì, il nero può tentare di difendere questo pedone, ma poi tutta la sua strategia, tutta la sua partita sarà inchiodata, a... il tenere questo pedone, e abbiamo visto che non è che funzioni tanto bene, e quindi Philip gioca E6. L'alfiere ricattura il pedone C4, arriva la spinta che attacca al centro in C5. Arrocco corto per il bianco, A6, quindi per una probabile B5, A4 giocata da benco impedisce questa spinta B5, il nero sviluppa il cavallo in C6. Donne in E2, alfiare in E7 per accelerare l'arrocco corto, torre in D1, torre in D1, attenzione sulla stessa colonna della donna, C per D4, E per D4, quindi eccoci arrivati alla posizione con il pedone isolato, quindi con la torre adesso proprio dietro al pedone, che lo vuole sospingere ad avanzare, e il nero gioca a rocco corto. Cavallo in C3, guardate cosa fa, sviluppa il cavallo, controlla la casa di fronte al pedone, perché ricordiamoci che anche questa torre dietro al pedone, uno dei metodi per il possessore del pedone isolato, è proprio questa spinta al momento giusto di questo pedone, per aprire la partita, e sfruttare se c'è sulla scacchiera un migliore sviluppo dei propri pezzi, cosa fa Philip? Cavallo in B4, questa cavallo in B4, attenzione, non soltanto controlla questa casa, e il cavallo ci può saltare, ma fa anche un'altra cosa importantissima, un po' oscura, che passa inosservata, per chi non conosce questo tipo di posizione, controlla questa casa di D3, impedisce quindi alla torre proprio quel movimento per portarsi in attacco sul lato di re, di cui parlavamo tra i piani del bianco, allora Benko salta col cavallo proprio su uno degli avamposti che sta creando il pedone, e cosa fa Philip? Il cavallo in B lo porta in D5 per bloccare il pedone, questa è una mossa tipica in questo tipo di posizioni, una mossa che fanno in tanti, ma purtroppo era l'altro cavallo che doveva saltare in D5, perché questa mossa, è vero che blocca il pedone, ma anche l'altro cavallo lo avrebbe bloccato, questa mossa invece fa una grossissima concessione, come mai il cavallo era saltato qui su questo avamposto? Intanto perché sta meglio, non può essere scacciato, quindi è un avamposto forte, ma anche perché libera la terza traversa per questa torre, una torre che adesso in D3 ci può andare liberamente, perché il cavallo non controlla più questa casa, quindi arriva proprio torre in D3, classico movimento della torre per portarsi in attacco sul lato di re, alfiere in D7, torre in G3, torre in G3 più precisa di torre in H3 in chioda il pedone, allora il re si sposta in H8, solo adesso arriva torre in H3, pensateci bene adesso se il nero ritornasse con il re in G8, in pratica il bianco avrebbe giocato questa mossa guadagnando un tempo, quindi arriva alfieri in E8, cavallo per cavallo il pedone ricattura, c'è stato un cambio radicale della struttura pedonale, che però non cambia assolutamente i piani di attacco del bianco contro il re nero, questo alfiere sotto attacco si sposta proprio sulla sua casa di 3, la sua casa più aggressiva, attenzione che ci sarebbe anche l'idea alfiere in G5, alfiere per cavallo e poi il fortissimo sacrificio, no, 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 che sacrificio, la fortissima cattura vincente dell'alfiere in H7, e quindi per chiudere questa diagonale il nero Philippe gioca a G6, alfiere in H6 attacca la torre, guardate come ristringe questa posizione del nero, ora attenzione perché qui c'è sempre questa idea, questo alfiere non si può spostare perché è inchiodato, la casa di Forchetta, cavallo cattura con scacco che vincerebbe la donna, arriva a torre nero, quindi Benko sviluppa anche l'ultimo pezzo con il bianco che raddoppia i pezzi pesanti su questa colonna E, quindi stavolta c'è addirittura il sacrificio del cavallo perché dopo si riprende il pezzo, allora l'alfiere torna indietro in F8, attacca l'alfiere campo scuro del bianco, non conviene cambiare pezzi in attacco, alfiere in G5, quindi salva l'alfiere, attacca, inchioda il cavallo sulla donna, la donna si porta in D6 per schiodare il cavallo, donna in F3, secondo attacco sul cavallo, protetto solo dalla donna, cavallo che non si può spostare, perché a raggi X la donna col cavallo bianco minacciano anche questa casa F7, allora alfiere in G7, seconda difesa sul cavallo, donna in F4, guardate che brutto, c'è la donna del nero sospesa in D6, lo scacco del cavallo vince la donna, quindi la donna si deve spostare dall'attacco a raggi X della donna bianca, ora sembrerebbe che donna in H3 per l'ultimo attacco, ma non funziona perché il cavallo saltando in H5 blocca questa linea di attacco, e quindi si gioca a torre in E3, attenzione la donna non può catturare, perché qui si perde il cavallo, non c'è il matto del corridoio perché l'alfiere può tornare indietro a fare da scudo a re, giochiamo una mossa neutra soltanto per guardare quanto è forte questa posizione del bianco, Philip giocherà H5, giochiamo questa plausibile torre in C8, guardate che succede, alfiere per cavallo, adesso se la donna cattura, guardate che succede, se la donna che ricattura, c'è il tematico sacrificio della torre in H7 con scacco, il re non si può muovere, costretto a ricatturare, abbiamo detto fortissimo il sacrificio di torre quando c'è la seconda torre, è l'unico modo, qui o interferire di donna ma naturalmente non cambia nulla, interferire di alfiere ugualmente non cambia nulla, la donna cattura in H6 scacco matto, allora, dopo la cattura del cavallo per forza il nero deve ricatturare con l'alfiere, alfiere cattura in F6, qui c'è una finezza che va ricordata, bisogna giocare prima il sacrificio del cavallo, cavallo cattura in F7 con scacco, a cosa serve? Serve ad indebolire questa casa F7, perché adesso oltretutto non si può catturare il cavallo, guardate che succede, se alfiere cattura in F7, arriva di nuovo il sacrificio di torre, e c'è sempre la seconda torre che può rientrare, il re cattura, torre in H3 con scacco, vedete come mai bisognava indebolire questa casa F7? Perché adesso, se questo alfiere si mette di mezzo, qui non si cattura e il re scappa, ma si cattura direttamente con scacco in F7 di donna, quindi re in G7, donna in H6, scacco matto, allora dopo questa, cavallo in F7 con scacco, il re si deve spostare, arriva di nuovo il sacrificio di torre, torre cattura in H7 con scacco, che protegge il cavallo, attenzione che se arriva la donna è scacco matto, il re si sposta, cavallo in D6, e guardate, in poche mosse, anche in questa posizione, arriverà il matto forzato, quindi un attacco fortissimo del bianco. Ritorniamo quindi alla nostra partita, perché dopo che è arrivata anche la seconda torre, per evitare questo terribile sacrificio di torre in H7, Philip gioca H5, arriva a 5, H5 attacca la donna, naturalmente è una deviazione, non si può catturare il pedone, se no si perde il cavallo, donna in D8, sempre proteggendo il cavallo, allora questo è un elemento inchiodato, perché dietro c'è il re, G4 l'attacco all'elemento inchiodato, attenzione che questo cavallo è inchiodato però sulla donna, è vero che la donna lo protegge, ma il cavallo è inchiodato, arriva a torre in C8. G per H5, e qui se si cattura il cavallo si perde la donna, quindi per forza bisognerà a un certo punto ricatturare col pedone, arriva prima lo scacco, torre in C1 con scacco, il re si porta in G2, il pedone G cattura in H5, ma adesso arriva la torre che stava in E3, si porta in G3, e in pratica la mossa 28, questa posizione porta già al matto forzato, vedete che di nuovo questo alfiere è bloccato, perché sta proteggendo fondamentalmente la donna, perché la cattura con scacco vincerebbe la donna, visto che l'alfiere non si può muovere, torre in F8, un'ulteriore difesa di questa casa F7 sembra più che giocabile, ma guardate che succede, alfiere per cavallo, qui se si riprende di donna, e qui naturalmente prima o poi, ma anche riprendendo di alfiere poco cambiava, torre cattura in H5 con scacco, il re è costretto, perché qui non si può interporre questo alfiere, perché questa casa H6 controllata due volte, il re si porta in G8, guardate che succede, che stranezza, alfiere inchiodato, non protegge più la donna, la donna cade subito, e dopo arriva il matto in G7, quindi una bellissima partita di Benko, che ci illustra chiaramente la forza, e qualche tematica dell'attacco sul lato di re, con quel movimento di torre, torre in E3, e poi il rook lift, come si dice in inglese, per portarlo su una delle due ali, in questo caso sull'ala di re, io spero che questa partita vi sia piaciuta, che sia stata istruttiva, se siete nuovi sul canale, non scordate di iscrivermi, datemi una mano per far crescere il canale, se volete studiare un po', senza spendere una fortuna, vi potete tranquillamente abbonare alle mie lezioni, che sono su una playlist qui sul canale, per soli abbonati, al piccolo costo di soli 2,99€ al mese, e che oltretutto voi quando vi abbonerete, voi accedete a tutte le lezioni precedenti, che rimangano sempre in libreria, e poi io ogni mese aggiungerò come minimo una nuova lezione, la nostra anteprima finisce qui, la lezione continua invece nella sezione per abbonati, io per adesso vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video, a presto! Grazie a tutti!